Vi auguro una serena notte. Il messaggio di questa sera è gravidanza. La nascita di un bambino è portatrice di grandi benedizioni per te e per il mondo intero. Questa carta indica che tu o una persona a te vicina in questo momento è incinta o lo sarà molto presto. Le fate festeggiano la nascita di questo prezioso bimbo poiché è un angelo portatore di gioia, di luce e di numerosi cambiamenti positivi nella tua vita. Questa carta potrebbe anche indicare un'imminente adozione andata a buon fine. Altri significati di questa carta sono una nascita importante e imminente e le fate accorrono per festeggiare. Fai attenzione ai nuovi progetti e al loro sviluppo. È appena venuto al mondo un bambino che ricoprerà un ruolo importante nella tua vita. Questa carta può anche far riferimento alla gravidanza di un animale domestico. Stai guarendo da un'esperienza dolorosa riguardante una gravidanza. Sei pronto o pronta per un cambiamento radicale nella tua vita. Questo è il messaggio di questa sera per augurarvi una dolce notte.